Avete mai visto un mondo di Minecraft con tutti i dungeon principali uno sopra l'altro? Se la risposta è no, dovete segnarvi questo seed. Questo mondo è riproducibile all'interno di Minecraft Bedrock Edition, nelle ultime versioni. Per qualche ragione in questo punto il mondo è buggatissimo. In cima possiamo vedere un pillager outpost, per poi scendere e trovare un'intera magione sul pelo dell'acqua con a fianco un villaggio un po' spezzato. E cosa c'è sotto la magione? In realtà le sue fondamenta si mischiano a un enorme monumento oceanico e nascosto tra i piloni del monumento c'è anche un bellissimo stronghold con tanto di portale. E se usate il seed in Java Edition, purtroppo non dà lo stesso risultato, ma al posto di tutte quelle strutture trovate la grotta più profonda mai vista in Minecraft, con alberi fino alla fine del mondo. E a sto punto vi lancio una sfida, scrivetemi nei commenti un seed più OP di questo.